Nelle anticipazioni di lunedì 30 e martedì 31 ottobre di My Home My Destiny, assisteremo al culmine dell'angosciante rapimento di Zeynep. Mentre il mondo è catturato dalla tensione del suo sequestro, nasce Mujgan, la figlia di Benal e Megdi. Nel frattempo, Megdi, ricercato dalla polizia, è in fuga verso Erzurum con Zeynep, completamente ignaro della nascita di sua figlia. Scopriamo insieme gli sviluppi avvincenti di questa storia. Ma prima di iniziare, non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdere neanche un aggiornamento su questa e altre soap opera di grande interesse. Dedicateci tre secondi del vostro tempo per un clic sul pulsante iscriviti e un rapido like. Grazie! Le indagini per trovare Zeynep proseguono incalzanti, e Baris e Savash, tenendo d'occhio i commenti e le immagini sui social media. Iniziano a sospettare che Megdi potrebbe dirigersi verso Erzurum, la città dove Mujgan stava dirigendosi prima di essere tragicamente uccisa da Buran e dove risiede la madre di Megdi. Nel dipartimento di polizia, Baris fa una scoperta fondamentale. L'ultima persona che ha avuto contatti con Megdi è stata Nasli, sua collega, a cui aveva chiesto del denaro. Inoltre, emerge che tra le molte persone interrogate riguardo a Megdi, figura anche Benal, l'ex amante di Megdi, la quale porta in grembo la figlia dell'uomo. Alla stazione di polizia, Baris decide di rivolgersi a Benal per ottenere ulteriori informazioni. Inizialmente, Benal restia a parlare, ma alla fine è costretta ad ammettere che Megdi potrebbe effettivamente essere in possesso di una pistola, anche se è convinta che lui non la utilizzerebbe mai, soprattutto contro Zeynep. Tuttavia, Benal è anche convinta che sia stata Zeynep stessa a spingere Megdi verso questo comportamento folle. Questa rivelazione scuote Baris profondamente, poiché la possibilità che Megdi abbia una pistola lo preoccupa ancora di più per la sicurezza di Zeynep. Si rende conto che non c'è più tempo da perdere nella ricerca di Zeynep. Megdi prosegue la sua fuga verso Erzurum, mentre Zeynep fa tutto il possibile per convincerlo a lasciarla andare. Dopo vari tentativi, riesce a persuaderlo a fare una breve sosta in una stazione di servizio, sostenendo di dover andare in bagno. Qui, Zeynep cerca immediatamente aiuto da una signora presente, chiedendole se può usare il suo cellulare. Tuttavia, l'aiuto le viene negato, e Megdi la costringe nuovamente in macchina. Questa scena non sfugge all'occhio vigile del gestore della stazione di servizio, che decide immediatamente di condividere ciò che ha visto sui social media. A casa, Gemile è sempre più angosciata per Megdi e decide di confidarsi con Nu. Le confessa di avere l'idea di cercare di riavvicinare suo fratello a Benal, con la speranza che l'amore per la loro figlia e la presenza di una donna accanto possano aiutarlo a calmarsi e a dimenticare finalmente Zeynep. Nu, sebbene non sia convinto che questa sia una soluzione efficace, ha consente per amore di sua moglie, che vede nervosa e sempre più preoccupata. Savash legge il commento del gestore della stazione di servizio sui social media, dove viene riportato anche il numero di targa della macchina su cui viaggiano Megdi e Zeynep. Senza indugi, avvisa immediatamente Baris, il quale mette subito in allarme le forze dell'ordine. La polizia organizza prontamente dei posti di blocco lungo l'autostrada che conduce a Erzurum, nella speranza di intercettare Megdi in tempo. Baris e Deminé, una volta giunti alla stazione di polizia, decidono di unirsi agli agenti impegnati nell'operazione, entrambi profondamente preoccupati per la sicurezza di Zeynep. Nel frattempo, anche Gemile e Nu vengono informati dell'avanzamento delle indagini e decidono di recarsi immediatamente alla stazione, lasciando Benal a casa da sola. Tuttavia, Benal inizia a sentirsi male e accusa dolori che rendono la situazione ancora più tesa. In macchina, Zeynep si trova sempre più spaventata e sconcertata dai discorsi di Megdi. Quest'ultimo continua a dichiararsi innamorato di lei e a chiedere scusa per il suo comportamento passato, soprattutto per non averle dato la casa che aveva promesso, assicurando che risolverà questa situazione una volta che saranno tornati insieme. Zeynep, pur nella sua paura, decide di affrontare Megdi. Gli rimprovera di averla strappata via da casa, anziché proteggerla. Zeynep comincia a cercare di comprendere i deliri di Megdi, chiedendogli cosa si aspetti una volta arrivati dalla madre di lui. Megdi crede che sua madre, Zelia, possa farle ricordare i momenti felici che avevano condiviso quando Zeynep frequentava l'università e vivevano tutti insieme, quando il loro matrimonio sembrava funzionare. Ma Zeynep non può accettare questa fantasia. Le fa notare che erano felici solo perché Benal era presente in casa e cercava di riconquistarlo, mentre lei doveva tacere per non contrariare nessuno. Ora, la situazione è diversa, e Megdi è diventato violento, proprio come lo era stato l'ex marito di Benal. Megdi non riesce ad ascoltare le accuse di Zeynep e cerca di giustificarsi, sostenendo che Benal non era amata dal suo ex marito, mentre lui e Zeynep si amano veramente. Zeynep è esausta e decide di affrontare Megdi con la realtà, lei non lo ama più. Ha amato Megdi in passato, ma l'amore che li legava è finito, e lui non è più l'uomo che amava. Questa affermazione colpisce Megdi profondamente, ma invece di accettarla, preferisce pensare che Zeynep non lo abbia mai amato piuttosto che affrontare il fatto che le sue azioni abbiano allontanato irrimediabilmente Zeynep. In preda alla rabbia, Megdi accelera all'improvviso sull'autostrada, causando ulteriore paura a Zeynep. I posti di blocco sono pronti e la polizia aspetta ansiosa l'arrivo di Megdi. Baris e Deminé, desiderosi di riabbracciare Zeynep al più presto, sono al fianco delle forze dell'ordine. Nel frattempo, Benal si trova da sola a casa, le contrazioni diventano sempre più intense e frequenti, aumentando la sua paura e l'incertezza su come agire. Decide di recarsi a casa di Zeynep, da Sakine, Nermin e Sultan, le uniche persone che possono aiutarla in questa situazione critica. Una volta arrivata, trova le tre donne che sono unite dalla vicenda che coinvolge Zeynep. Realizzando la gravità della situazione di Benal, le donne si determinano a offrirle tutto il sostegno possibile. L'idea di chiamare un'ambulanza viene presa in considerazione, ma il tempo stringe e non c'è spazio per esitazioni. Proprio in quel momento, le acque si rompono, e Benal inizia a partorire. Sakine, Nermin e Sultan mettono da parte ogni paura e insicurezza per concentrarsi sull'importante compito di assistere alla nascita della bambina. Con coraggio straordinario, le donne si uniscono per sostenere Benal in questo momento cruciale. L'atmosfera è pervasa dalla determinazione mentre lavorano insieme, offrendo consigli e conforto in mezzo a una serie di emozioni travolgenti, dalla paura alla gioia. Il processo di dare alla luce la bambina di Benal, ha inizio, e proprio mentre l'attenzione di tutti è rivolta altrove. Una nuova vita fa il suo ingresso nel mondo. Nel frattempo, Megdi, nella sua folle corsa verso Erzurum, non è consapevole di quanto sta accadendo. Nell'autostrada, finalmente, Megdi raggiunge il posto di blocco e ferma l'auto. Zeynep, terrorizzata e in preda al panico, lo prega disperatamente di arrendersi e di costituirsi. Non sa più come convincerlo, ma giura che se Megdi si arrenderà e verrà rilasciato, proveranno a dare un'altra possibilità al loro rapporto. Megdi non risponde e accelera improvvisamente verso il posto di blocco. Baris si posiziona nel mezzo della strada, convinto che Megdi si fermerà, ma Zeynep teme che Megdi possa investirlo e ucciderlo. Implora con tutte le sue forze Megdi di fermarsi. Fortunatamente, Megdi si ferma a pochi centimetri da Baris, rimanendo immobile nell'auto. La polizia lo prende immediatamente in custodia, mentre Baris si precipita da Zeynep. Finalmente, fuori da ogni pericolo, si abbracciano sotto lo sguardo ormai privo di vita di Megdi. Emineli raggiunge, e insieme portano Zeynep, traumatizzata e scioccata, al sicuro. Un poliziotto poi ritorna alla macchina di Megdi e trova la pistola. Da lontano, Zeynep guarda sbigottita Megdi dentro l'auto della polizia, ormai in manette. Nello stesso istante, Benal ha finalmente dato alla luce la sua bambina, chiamandola Mujgan, e tutte le donne si stringono nella gioia per la nuova vita appena arrivata al mondo. Una volta tornata a casa, Zeynep viene avvicinata da Sakine, che si precipita ad abbracciarla, accusandosi per tutto il dolore che le ha causato, incitando Megdi a riconquistarla. Anche Zeynep si scusa con sua madre, rendendosi conto che lasciare il proprio marito è molto più complicato di quanto possa sembrare. Aveva sempre biasimato sua madre per non aver mai lasciato Bayram, ma ora comprende che anche lei aveva giustificato e perdonato Megdi in passato, capendo finalmente che una relazione ha molte sfumature e difficoltà non facili da affrontare. Zeynep si stringe nell'abbraccio di Sakine e Nermin, e finalmente ritornano in casa insieme, unite e i più felici che mai. All'interno della casa, Zeynep trova Benal con la figlia tra le braccia, e anche lei ringrazia Benal per aver fatto sì che quella bambina venisse al mondo, riconoscendo l'importanza della sua presenza nella loro vita. Gemile, la sorella di Megdi, e suo marito Nuh sono presenti alla stazione di polizia, ansiosi di vedere Megdi e di conoscere la sua situazione. Mentre apprendono della nascita di Mushgan, decidono di mostrare subito a Megdi una foto della bambina per dargli un po' di conforto. Megdi è sconvolto e si sente ancora più triste per la sua condizione. È diventato padre, ma non può essere vicino alla sua piccola. La polizia lo porta via, lasciando Gemile e Nuh con lo sguardo sempre più preoccupato. Il mattino seguente, Megdi viene informato dei suoi capi di imputazione, violazione dell'ordine restrittivo nei confronti di Zeynep, rapimento e tentato omicidio. Baris è presente in veste di avvocato di Zeynep e aggiunge anche l'accusa di violazione di proprietà privata, poiché Megdi ha rapito Zeynep dalla sua casa. Baris cerca anche di ottenere informazioni da Megdi su come abbia scoperto dove lui abitasse e come si è riuscito ad arrivarci, ma Megdi non risponde e lo ignora completamente. Di fronte a questa situazione, il giudice decide di tenere Megdi in custodia cautelare fino al processo, data la pericolosità che rappresenta per Zeynep. Uscito dallo studio del giudice, Megdi è in manette escortato dalla polizia. Incontra Gemile, Nuh e Benal con la loro bambina. Quasi scoppiando in lacrime, bacia sua figlia sulla fronte e se ne va senza dire una parola. ma con gli occhi lucidi di emozione e dolore. A casa, Zeynep non riesce a riprendersi e si rinchiude in camera sua. Tuttavia, è il giorno del suo compleanno e Sakine e le altre donne vogliono festeggiarla per cercare di sollevarle il morale. Emine, non sapendo come affrontare la situazione, chiama Baris per chiedere il suo aiuto. E lui ha subito un'idea. Più tardi, a casa di Zeynep, arriva Savash con l'intenzione di farla uscire dalla sua camera, proprio come lei aveva fatto con lui qualche giorno prima. I due hanno una conversazione sincera, durante la quale Zeynep si sente molto in colpa, pensando di essere stata lei a causare il comportamento sconsiderato di Magdi, soprattutto considerando che in passato, lui era sempre stato gentile. Savash le spiega però che il sentirsi costantemente in colpa, sia per le proprie azioni che per quelle altrui, la condurrà sempre a respingere relazioni sane e la felicità. Quando una persona ha paura della felicità, si autocondanna per tutto e si convince di non meritare la serenità. Le parole di Savash colpiscono profondamente Zeynep, che finalmente decide di scendere in salotto con lui, dove la sua famiglia l'aspetta per festeggiare il suo compleanno. L'atmosfera a casa di Zeynep è rilassata e allegra. Savash conquista subito il cuore di Sakhine, che lo accudisce come un figlio. Sultan delizia tutti con complimenti e cibo squisito, e finalmente arriva la torta di compleanno di Zeynep. Dopo aver spento le candeline, Baris le mostra il suo regalo, un ciondolo a forma di cuore che lei indossa subito sotto lo sguardo sereno di tutti i presenti. Dopo qualche minuto, Zeynep e Baris si ritirano in giardino, dove si confessano a vicenda quanto si sentano bene in compagnia l'uno dell'altro, sotto lo sguardo di Savash che li osserva dalla finestra. Nel frattempo, mentre la festa di compleanno a casa di Zeynep procede a meraviglia, Magdi viene condotto nella sua cella che condivide con altri tre uomini. Subito viene accolto nel migliore dei modi, anche se i suoi compagni di cella cercano da subito di spiegargli che il carcere ha le sue regole, e che lui dovrà impararle e rispettarle per evitare guai, tuttavia, Magdi sembra non dare molto peso a queste parole, continua a seguire le sue regole personali e sembra restio a imparare quelle del carcere. A casa, Gemile è sempre più preoccupata per Magdi, e quando Nuh le rivela che è stato accusato anche di tentato omicidio, lei non riesce più a trattenersi e si scaglia contro il marito. In colpa Nuh per aver detto che Magdi ha commesso degli errori, e questa accusa fa emergere in Gemile la sua profonda indole protettiva nei confronti del fratello. Nessuno, secondo lei, può comprendere il dolore di Magdi. Magdi, infatti, aveva solo intenzione di portare Zeynep da Zelia, cercando di far confrontare le due donne che, secondo lui, non lo amavano come avrebbero dovuto. Da sempre, Magdi ha cercato di attirare l'attenzione di Zelia e di guadagnarsi il suo affetto, arrivando persino a farsi del male da solo per ottenere una certezza dall'amore materno che invece gli è sempre stato negato. Zeynep si è allontanata drasticamente da lui, facendolo sentire solo e non amato. Nessuno può davvero comprendere il dolore di Magdi per la perdita di Mujgan, l'unica persona che lo ha sempre amato e venerato. Nessuno può giudicare le sue motivazioni perché ha provato un dolore simile. La reazione di Gemile sconvolge Nuh, che scopre un lato di Magdi che non aveva mai conosciuto. Dopo la sua spuriata, Gemile si chiude nel bagno e si abbandona a un lungo pianto. Nel frattempo, Baris confessa a Zeynep che Magdi aveva una pistola con sé, quando la rapita, e lei rimane profondamente sconvolta, quasi al punto di avere un attacco di panico. Uscendo in giardino, viene subito soccorsa da Emine e Baris, che la ascoltano mentre si sfoga. Zeynep sapeva che Magdi poteva essere pericoloso, ma si era comunque innamorata di lui. Ora, si chiede come potrà fidarsi delle sue emozioni in futuro. Baris cerca di tranquillizzarla, suggerendo che forse quello che provava per Magdi non era amore, ma solo affetto. Ora che lo sa, potrà andare avanti e cercare il vero amore con serenità e sicurezza. Le sue parole sollevano Zeynep, e sembra che Baris sia l'unico in grado di darle conforto in questo momento difficile. In cella, Magdi osserva i suoi compagni impegnati in piccoli lavoretti manuali per passare il tempo. Uno di loro ha costruito una piccola casa con i fiammiferi, e Magdi gli chiede se può comprarla, con l'intenzione di regalarla alla sua amata. Infatti, Magdi continua a riflettere sulle ultime parole di Zeynep. Quando verrà rilasciato, potranno tentare di ricostruire il loro rapporto. Questo pensiero lo ossessiona, non lo abbandona, e sembra che vi ponga molta speranza. Magdi è determinato a fare tutto il possibile per riconquistare il cuore di Zeynep. La festa a casa di Zeynep si conclude, e Baris e Savas si preparano a lasciare la casa, ma non prima di ricevere le scorte di cibo preparate da sultane di invitare Sakine a casa loro. Savas ha immediatamente visto in Sakine una figura materna a cui si è affezionato e che gli piacerebbe frequentare. Nonostante la serata sembri essere trascorsa senza intoppi, Zeynep non è tranquilla quando si ritrova da sola in camera. Emine la raggiunge e nota che l'amica controlla costantemente le finestre della sua camera per essere sicura che nessuno la stia spiando. Zeynep arriva persino a mettere pesi e barattoli davanti agli infissi, in modo da poter udire eventuali rumori se qualcuno cercasse di introdursi nella sua stanza. La paura e la diffidenza rimangono presenti nella sua mente nonostante la festa si sia conclusa positivamente. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale. Grazie